Negli occhi l'emozione di chi riceve un dono fatto con il cuore. Da Arte Sacra Marchetti valorizzi con classe e sentimento i momenti più belli della vita. Bomboniere e articoli regalo per battesimi, prime comunioni, cresime, matrimoni, articoli unici e ricchi di significato. Arte Sacra Marchetti, in via Spaziani 39 in Borgo Milano e nella nuova sede di via Pietà Vecchia a fianco del Duomo di Verona.